Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Oggi siamo in una location un po' diversa perché con la stufa a pelle diciamo un po' di rumore facevo quindi volevo cercare di togliere questo rumore perché poteva essere fastidioso nei video e scusate per la mia assenza ma purtroppo lavorando 9-10 ore al giorno il tempo inizia ad essere di meno quindi riesco a dedicare meno tempo a YouTube e in conseguenza inizia meno tempo a registrare i video detto questo con questo video volevo portarvi un metodo, un modo per guadagnare 40 euro netti veramente senza fare nulla o meglio mi vado a spiegare meglio più tardi ma potete andare a guadagnare 40 euro da spendere come voi volete senza dover fare nessun lavoro in sostanza forse molti di voi hanno già sentito parlare di questo metodo, di questa occasione per guadagnare questi 40 euro molti di voi appunto l'avranno sentito parlare, molti di voi magari l'avranno già fatto e magari c'è ancora qualcuno che non l'ha fatto di conseguenza volevo comunque portare questo video sul mio canale perché trovo che sia un'opportunità da cogliere in quanto è molto vantaggiosa di cosa sto parlando? sto parlando del conto BuddyBank cos'è BuddyBank? in sostanza BuddyBank è un modello di banca studiata appositamente per lo smartphone che sia Android, che sia iOS a canone zero cosa vuol dire canone zero? canone zero vuol dire che non costa assolutamente nulla, totalmente gratuito e a voi basta semplicemente, ovviamente deve essere maggiorenni vi basta semplicemente aprire un conto appunto con BuddyBank e inserendo il codice che vi lascio qua sotto scritto sia qua sotto nel video e sia magari se lo volete andare a leggere nella descrizione qua sotto vi basta inserire questo codice in fase di attivazione voi andate a guadagnare 40 euro netti su questo conto vi arriverà poi a casa la carta da poter utilizzare poi come un bancomat qualsiasi con il suo IBAN insomma molto molto carina la carta di BuddyBank e appunto vi verranno accreditati 40 euro netti da poter andare a spendere come voi volete ma attenzione perché la cosa interessante non è finita qua non solo voi andate a guadagnare 40 euro netti da poter spendere come volete senza dover pagare nulla o fare nulla di particolare ma in più se voi andate ad invitare 6 amici con il vostro codice d'invito i vostri amici guadagneranno 40 euro all'apertura del loro conto e voi per ogni amico fino al totale appunto di massimo di 6 amici andrete a guadagnare 40 euro dalla loro iscrizione quindi per un totale massimo di 240 euro e se voi andate a sfruttare appunto questa enorme occasione potete portare a casa 240 euro totalmente puliti e senza dover fare nulla basta semplicemente invitare il vostro amico ad aprire un conto a canone zero solamente gratuito appunto con BuddyBank con il conto a canone zero infatti avrete il vostro conto la possibilità di fare prelievi gratuiti da tutti i bancomat Unicredit appunto perché questa BuddyBank è stata fatta dal gruppo Unicredit quindi un gruppo molto conosciuto e potete andare a fare dei prelievi gratuiti dagli sportelli Unicredit fare bonifici insomma quello che potete fare con un normale conto bancario poi esiste anche una sorta di concierge una sorta di chat attiva 24 su 24 tutti i giorni dell'anno se voi avete qualsiasi problema con il vostro conto scrivete a questo concierge e loro vi risponderanno e vi risolveranno questi problemi cosa interessante, è interessante se poi uno andrà a utilizzarla con più frequenza è il fatto che oltre al piano a canone zero esiste anche il piano diciamo BuddyBank Love che viene 9 euro e 90 al mese e avete tutti i servizi normali di un conto bancario in più avete questo concierge che oltre a eventuali problemi sul vostro conto potete andare a contattarlo per risolvere qualsiasi altro problema il sito di gente che ha perso il bagaglio nell'aeroporto aveva appunto questo BuddyBank Love e il suo concierge senza che lui faccia nulla semplicemente chiedendo guarda ha perso il bagaglio gli ha trovato il bagaglio all'aeroporto dove aveva smarrito quindi tolto a questa piccola parentesi di un piano a pagamento ricordo appunto che c'è il piano gratuito e aprendo il piano gratuito voi andate a guadagnare 40 euro netti senza fare nulla dovete semplicemente aprire il conto a canone zero inserendo il mio codice che vi lascio appunto sotto in descrizione molto molto semplice ed è un'opportunità che secondo me va sfruttata perché 40 euro più eventualmente non devo invitare i vostri amici sono 240 euro, sono veramente tanti soldi quindi questo era semplicemente il video per mostrarvi questa opportunità se ovviamente il video ti è piaciuto e ti è stato utile io ti invito a lasciare un like e un commento per farmelo sapere appunto qua sotto e ovviamente se vuoi continuare a vedere questo genere di video iscriviti al canale noi come sempre ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo video ciao